Si chiama Conoscere per crescere l'iniziativa di volontariato sociale rivolta ai ragazzi delle scuole medie superiori tifernati che giunta la seconda edizione ha permesso ai partecipanti di prendere contatto con alcune strutture e attività gestite dalla cooperativa La Rondine che ne è l'artefice, conoscendo da vicino il mondo del lavoro sociale ma anche in realtà spesso poco note. Finalità generale di questa iniziativa in fondo è quella di dare la possibilità alle ragazze e ragazzi di vivere momenti di apprendimento sano dal punto di vista dell'emotività e delle relazioni interpersonali. Più che soddisfacente il bilancio di questa seconda edizione è già si guarda al futuro. È andata oltre qualsiasi nostra aspettativa perché ci aspettavamo 100 ragazzi, 100 iscrizioni e invece abbiamo avuto ben 135 iscrizioni con un entusiasmo eccezionale da parte di ragazzi che si sono prodigati e come operatori sociali nelle varie attività che la cooperativa svolge ormai da 28 anni con una serietà una professionalità e una dedizione pari a persone più esperte del sociale insomma quindi siamo molto soddisfatti di questo. Vista il successo sicuramente il prossimo anno ripeteremo l'iniziativa anche perché credo che ormai sia diventato un punto fermo per la città.